Sono Gianfranco Marini e vi do il benvenuto su Gnam, la rivista delle risorse per la narrazione, digitale non. Gnam, dove la G non vuol dire nulla, il resto vuol dire ben poco, narrazione agglutinata multimediale. Agglutinare, come unire e mescolare cose separate per ottenere un unico amalgama narrativo, per dare un senso alla nostra esistenza e anche al mondo. In questa edizione melanzana di Gnam, cinque perle narrative da non dare ai suini. I video sul testo narrativo della maestra Paola Tascione. Questa è la playlist della maestra Paola Tascione, dove potrete trovare undici video. In alcuni di questi video trovate le lezioni sul racconto di fantascienza, racconto fantasy, il testo narrativo prima e seconda parte, in cui Paola vi racconta il testo narrativo, con l'ausilio di una presentazione in PowerPoint che poi è scaricabile dal suo sito. Per accedere al sito di Paola Tascione trovate il link nel box descrittivo dei vari video. Una volta giunti al sito, andate su lezioni d'italiano e qui potete, come vedete, scaricare il materiale dopo esservi iscritti, cioè anche la presentazione. La seconda perla che vi propongo è una presentazione di un'applicazione Learning Apps, che non è uno strumento per realizzare storie, ma per realizzare giochi, prove, test, quiz, di vario formato, di varie tipologie, che sono dei giochi, ma che in qualche modo rappresentano anche il tentativo di costruire dei piccoli percorsi di apprendimento unendo gioco e storie, perché sono delle piccole storie. Vi ho inserito un link alla presentazione che Angela Costantini, la maestra Angela Costantini, fa di questa applicazione, e poi un altro link, una playlist che contiene 5 video tutorial di Elisabetta Buono su Learning App. Questa è la presentazione di risorse didattiche per la scuola primaria di Angela Costantini, che spiega il funzionamento di questo strumento. Questa è l'home page di Learning Apps, i video tutorial vi spiegheranno come utilizzarla, come esplorare tra le app, dove app sta a significare i piccoli esercizi che possiamo creare, o che possiamo utilizzare, perché molti sono già stati fatti da colleghi. Io vi mostro adesso, per farvi capire le potenzialità di questa applicazione, per esempio questo puzzle, un esercizio che permette di distinguere tra nomi derivati e nomi derivati di carta, seleziono nomi derivati di carta, per esempio cartolaio, scarto, vediamo se indovino altri, cartuccia, oppure nomi derivati di vetro, 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 vetrina, vitreo, vetrata, e così il puzzle si compone. Per farvi capire come lo stesso tipo di conoscenze e di abilità possa dar luogo a esercizi completamente differenti, vediamo sempre su nomi primitivi e derivati un altro tipo di esercizio, realizzato da maestra Pamela. Qui c'è la spiegazione, ci si chiede di guardare questo video prima di realizzare il gioco, e poi poniamo, io prendo, non so, vaso o mano, adesso non viene nessuno, ecco qua, peschereccio e vado su pesce, rilascio e sparisce, e così via finché non ho fatto sparire, cos'è questo, piedistallo, piede, finché non ho fatto sparire tutto quanto. Vediamo adesso una risorsa molto interessante realizzata da Patrizia Vaiola, si tratta di una mappa creata con Mindomo, che ha come argomento le bufale, le fake news, che offre risorse e strumenti tipici di quello che viene definito il pensiero critico, per insegnare il fact checking, cioè la verifica delle informazioni. L'attenenza col tema della narrazione, dello storytelling, e soprattutto del digital storytelling, è evidente, le bufale altro non sono che storie. E se infatti andrete a vedere il primo ramo di questa mappa, che comprende sei rami principali, e circa 60 nodi, troverete delle storie, la famosa storia dei gatti in bottiglia, una delle prime bufale che hanno girato in rete, e così via. Nel secondo ramo della mappa trovate dei contributi teorici. È una sezione che comprende articoli, approfondimenti, un approccio conoscitivo al tema dello storytelling, attraverso la lettura di una serie di articoli sull'argomento. Quindi dei percorsi, in cui si suggeriscono kit o percorsi didattici che i docenti possono utilizzare per affrontare con le loro classi il tema della post-verità. E qui abbiamo esercizi, anche questi molto utili, ipotesi di percorso per la scuola media, per il bienio delle superiori, e tutta una serie di risorse, finalmente, difendersi dalle bufale, a cui appartiene appunto questa ipotesi di percorso, che propone siti, strumenti, risorse presenti in rete per verificare, per esempio, o per aiutarci, diciamo così, a verificare l'attendibilità di una informazione, come l'ottalogo Boldrini-Fedeli. Infine, un approfondimento, come vedete anche qui ci sono molti link a video, articoli e così via, sul giornalismo in classe, affrontare in classe il tema del giornalismo, è un modo utile per comprendere come si creano e si diffondono le notizie, per comprendere anche quelli che sono gli standard di un giornalismo critico, serio, che vaglia alle fonti, e che non si limita a diffondere, condividendo qualsiasi cosa, quello che si trova in rete. Quindi la rete, in questo senso, non fa altro che riflettere quella che è la realtà in cui viviamo, e nella rete troviamo le fake news, ma troviamo anche gli strumenti, se abbiamo la voglia di cercarli, per combattere il diffondersi delle bufale. Una quarta risorsa che vi propongo, una vera piccola perla, è questa storia, è il linguaggio del cinema di UTET Universitaria, si chiama CineClick. Il cinema è la fabbrica dei sogni, Il cinema, tra divertimento e manipolazione, costituisce, forse, tra tutte le arti, quella che più di tutte ha dato luogo e sfogo alla narrazione nel Novecento, e non solo nel Novecento. Bene, in questa piccola enciclopedia, divisa in cinque sezioni, abbiamo la possibilità di accedere, non soltanto ai film, ai generi, ai registi, ma soprattutto a una breve storia del cinema. Divisa in cronologia e storia, se andiamo su storia, vedete, troviamo un sottomenu, possiamo, per esempio, non solo la grande stagione del cinema muto, e troviamo anche degli esempi. L'approccio è molto semplice, si tratta di una breve descrizione e definizione, e di alcuni video di esempio, quindi molto accessibile, molto chiaro, molto rapido e veloce, e poi, naturalmente, chi vuole trovare approfondimenti in rete, ne troverà tanti. E poi, soprattutto, abbiamo il linguaggio cinematografico, perché capire la narrazione cinematografica implica, richiede, la comprensione di quella che potremmo definire è la grammatica, è la sintassi del cinema, cioè il montaggio e l'inquadratura. Quindi, andando su montaggio, troveremo i vari tipi di montaggio, montaggio connotativo, montaggio parallelo, e anche qui, una breve definizione, è un qualche esempio, così come, se andiamo a vedere l'inquadratura, troviamo un sottomenu, vedete, scala dei piani, figura intera, piano americano, e anche qui troviamo una piccola definizione, molto semplice, è un video, che ci mostra un esempio, in questo caso, figura intera, tratto da un filmato. E' per finire uno dei siti più interessanti, presenti in rete, Pensiero Critico e O di Franco Mattarella, che offre tantissimo materiale, su tantissimi temi fondamentali, in ambito educativo e formativo. In questo caso, si tratta appunto del digital storytelling, dalla narrazione alla persuasione, perché? Perché, secondo alcuni autori, come Christian Salmon e tanti altri, intorno alla fine del Novecento, si è avuta una rivoluzione narrativa, la narrazione in forma di storytelling, supportato dalle nuove tecnologie, ha fatto irruzione, e si è avuta quella che è la svolta narrativa, dove però la narrazione è diventata uno strumento, anche di manipolazione, e di persuasione appunto. e quindi è quello che io chiamo il lato oscuro dello storytelling. Molto interessante è questa pagina di Pensiero Critico EU, perché ci dà un quadro sintetico, una sorta di sinossi sul digital storytelling, i tipi di narrazione, orale, tradizionale e digitale, e poi il digital storytelling nei vari ambiti, la narrazione nella comunicazione politica, nella vita privata, nella pubblicità, e infine anche nel settore educativo. E come vedete, non abbiamo soltanto, Montasuo ha citato anche me, non abbiamo soltanto del testo che ci spiega determinati concetti, e ci dà determinate delucitazioni, ma abbiamo anche dei link, questa mi pare una mia presentazione, a presentazioni, articoli, video, e così via. Soprattutto interessante è la ricca bibliografia, e l'incografia, la definirei, noi possiamo visitare, vedete, vari articoli sull'argomento. Quindi una risorsa veramente ottima. Si conclude così anche questa edizione melanzana di Gnam, il notiziario delle news sulla narrazione, in grafica diversamente bella, con questa frase, su ciò di cui non si può argomentare, si deve narrare. Umberto Eco, arrivederci.